Ti piace il gelato? Un gelatino me lo concedo. Gelatino? Quelli di Caravaggio sono scarabocchi? E che te ne pare finora? Voglio pizza, cannoli, italiani focosi, subito! Oh, mi piace questa ragazza! Oh, mio giro. Questo è per te. Ti aspetti che io salga su quel micidiale veicolo italiano? Non c'è un limite di velocità? Ah, io non ne ho di limite. Mia cugina tende a essere un po' melodrammatica. Una capra! Capra? Capra! Wow. Scegline una. Quella? Va bene. Devi farmi il navigatore. Sì, lo so, va dritto. Sempre dritto. È una ruotatoria, come faccio ad andare dritto? Sei pronta? No, 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 no. Una donna cammina con molti fianchi. Prova. Oh, mio Dio. Ogni cosa migliora dopo il gelato.